Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone, «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose, «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci, e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simone Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo, «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che aveva fatto. Così pure Giovanni e Giacomo, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone, «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». «E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono». Parola del Signore. In questo Vangelo di oggi abbiamo al centro la figura di Pietro, naturalmente anche degli altri apostoli, ma Pietro è proprio in mezzo, è al centro. E Pietro è molto simpatico, perché Pietro è uno di noi. Pietro è proprio, come dire, dell'incarnazione, del discepolo insieme entusiasta, appassionato, che si butta sempre e anche del discepolo che deve fare i conti con la sua fragilità, con i suoi limiti, con i suoi desideri più grandi di quello che riesce poi di fatto a realizzare. Qui abbiamo la chiamata di Pietro e degli altri discepoli, secondo il Vangelo di Luca, quello che leggiamo quest'anno. Il Vangelo di Luca ci racconta della pesca infruttuosa. Gesù passa lungo il lago, come ci raccontano anche gli altri evangelisti, mentre i pescatori stavano sistemando le reti, e li invita, e li invita di nuovo a gettare queste reti. Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Quante volte anche nella nostra vita ci può capitare di fare questa esperienza? Abbiamo faticato tanto, ci siamo impegnati tanto, magari con i nostri figli, magari con il lavoro, magari con le relazioni affettive, e poi ci ritroviamo in un momento della vita in cui diciamo non ho preso nulla, sono, come dire, senza frutto, non vedo i risultati di tanti miei sforzi. Però, dice Pietro, sulla tua parola io getterò di nuovo le reti. Poteva anche dirgli, ma chi sei tu? Noi siamo pescatori, noi sappiamo come si fa, non si va a pesca di giorno. E invece Pietro si fida. E lì, ecco la pesca miracolosa, le reti si riempiono. Tanto che tutte e due le barche erano piene, quasi fino ad affondare. E Pietro, davanti a questo segno così grande, che naturalmente è già un anticipo, è un preludio, come dire, della azione missionaria. Sempre le barche, le reti, ci parlano di chiesa, ci parlano di evangelizzazione, ci parlano della raccolta degli uomini, dice San Girolamo, i pesci quando li tiri fuori dall'acqua muoiono, ma invece quando siamo tirati fuori noi dalla rete di Cristo, dal fango del mondo, allora invece entriamo nella vita, ecco. E allora davanti a questo segno Pietro dice Signore allontanati da me, che sono un peccatore, io non sono degno di stare con uno come te. E invece proprio Gesù lo chiama, non temere, non avere paura, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Certo c'è una chiamata, oggi è anche il giorno della vita, la prima domenica di febbraio, e ci ricorda che ognuno di noi è chiamato alla vita, che non si nasce per caso. Umanamente si può nasciare anche per sbaglio, ma davanti a Dio nessuno nasce per sbaglio. Tutti siamo chiamati uno per uno, per nome. Diceva Madre Teresa, Dio sa contare fino a uno, perché Dio voleva te, voleva me, ci ha chiamati per nome, siamo nati. Ecco, e questa è la vocazione, sarai pescatore di uomini, eri pescatore di pesci. Vedete, la chiamata di Dio non rinnega, non mortifica i nostri desideri più veri, anche il nostro carattere, la nostra storia. La chiamata di Dio allarga questo desiderio, lo fa andare oltre ogni immaginazione, rispondere alla chiamata di Dio, non solo a quella fondamentale della vita, a sposarsi, a farsi prete, a partire per la missione, a consacrare, non lo so, ma ci sono tante chiamate del Signore. Ecco, perché la vita nostra e la vita degli altri fiorisca. giornata della vita, giornata per recuperare il senso della chiamata alla vita e per recuperare il senso di far fiorire la vita degli altri. giornata di Dio giornata di Dio